Non ci risparmieremo per meritarci la fiducia che avete riposto in noi, ma adesso dobbiamo fare un altro passo per inaugurare insieme una nuova stagione per Scigli, una stagione in cui il noi prevale sull'io. L'impegno nostro sarà quello di andare a cercare tutti i cittadini, rappresentanti di partiti e associazioni della nostra area, questa è la cosa più importante. Quello che mi aspetto è che abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo far uscire la gente di casa e dire l'importanza di questo progetto dietro a Caterina e veramente qua uno vale uno e quindi vogliamo che tutti quanti vengano a condividere i nostri progetti, a proporli e a portare avanti la città. Con il candidato avversario partiamo da zero, la gente conosce l'operato, soprattutto il nostro impegno dal punto di vista ambientale, le nostre scelte politiche contro l'ACIF, mentre dall'altra parte quelle scelte furono avvallate. Abbiamo portato avanti il piano spiaggia e il piano regolatore, quindi con criteri molto legati all'ambiente, se la gente vuole cambiare in maniera diversa e in peggio non può fare altro che dare fiducia ad altri. Noi le cose le abbiamo scritte, le abbiamo scritte con l'aggiunta sia sul piano regolatore sia sul piano spiaggia e soprattutto per quanto riguarda la difesa all'ambiente, il nostro operato si è visto nel territorio. Abbiamo portato la raccolta differenziata da neanche il 20% a sopra il 65% e abbiamo delle criticità che stiamo affrontando e quindi il dissesto dei bilanci l'abbiamo anche questo risolto, anche se ci sono altre passività, però possiamo dire che del tutto questa esperienza è un'esperienza molto positiva. Chiediamo ai cittadini di fare un ultimo sforzo, perché sì è vero che molti sono stanchi della politica, degli intrugli che si sono visti sempre, hanno pure ragione, però dicono nello stesso tempo che astenendosi dal voto si dà forza proprio a tutto quello di cui si è stanchi, perché vorrei dire a queste persone che la politica decide secondo per secondo la nostra vita, quindi perché lasciare artefice questa cosa vista male e non prendersi la responsabilità di andare a votare? Andare a votare significa decidere per la propria vita, quindi riprendiamoci il nostro diritto. Grazie. Grazie.